Il migliore, l'etuale della danza orientale in Sicilia ed è uno spettacolo che tutti ricercano ma che non tutti riescono ad avere l'unico maschio a portare bandiera della danza Saidi in Sicilia questa sera si esibisce per noi in un pezzo classico d'alta tecnica e d'alta danza per voi il maestro Mohamed wow metà io l'idea che stangai Grazie a tutti 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 Grazie a tutti